Buongiorno a tutti e benvenuti alla rubrica domanda risponde. Oggi parleremo di mobilità 2021-2022. La prima domanda a cui daremo risposta è la seguente. Come si calcola la continuità del servizio nelle gradatorie interne d'istituto per l'individuazione dei docenti per tenti posto? Intanto il docente si deve trovare nella condizione di non avere interrotto la continuità, come per esempio nel caso di aver chiesto un'assegnazione provvisoria e averla ottenuta. Dopodiché si può calcolare il punteggio della continuità per la gradatoria interna nel seguente modo. Due punti per ogni anno di continuità entro il quinquennio e tre punti per ogni anno di continuità oltre il quinquennio, con l'aggiunta, perché si parla di gradatori interne d'istituto, con l'aggiunta di un punto per ogni anno di continuità prestato all'interno del comune in scuole diverse da quella di attuale titolarità. Andiamo alla seconda domanda. L'utilizzazione per la classe di concorso diversa da quella di titolarità può essere riconosciuta come punteggio nella domanda di passaggio di cattedra? La risposta è affermativa. Sì, l'aver prestato il servizio in un'altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità per utilizzazione dunque nella mobilità annuale, dà un riconoscimento di un punteggio come un titolo culturale nei passaggi sia di ruolo che di cattedra. Stiamo parlando dei cosiddetti crediti professionali, ovvero del riconoscimento di tre punti per ogni anno di servizio e comunque per un periodo non inferiore a 180 giorni, prestato in utilizzazione dello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto appunto il passaggio. Andiamo alla terza e ultima domanda. Nella mobilità territoriale mi posso ricongiungere ai miei genitori che vivono a Cosenza anche se io sono coniugata e insegno a Vicenza? No, nella mobilità territoriale il riconoscimento dei genitori e quindi il punteggio di sepunte riconosciuto nel comune di residenza dei genitori è consentito soltanto ai non coniugati o a chi è separato legalmente. Chi è coniugato può chiedere ricongiungimento solo al coniuge, cosa diversa è nella mobilità annuale, cioè con le assegnazioni provvisorie dove il docente sceglierà a chi ricongiungersi, a prescindere dal fatto di essere coniugato o meno. Ringraziamo tutti per l'ascolto, seguiteci ancora perché tratteremo sempre temi di attualità prossimamente, insomma andiamo in onda di mercoledì, dunque per il prossimo mercoledì. Seguiteci sui nostri canali social, Facebook e Youtube perché manderemo appunto tanti video interessanti che possono interessare appunto tutti i nostri telespettatori. Arrivederci! Grazie a tutti!